Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro RichCamer89 Siamo tornati in un nuovo video di Clash Royale Subito un bel pollicione in su Questo video ve lo volevo mettere il 29 Che è la data in cui esce, che è uscita questa sfida qua Per essere più di tendenza possibile Ma oggi ho la live di OpenFiberCup Sabato la live di CTR Quindi questo video non so quando lo metterò Ma sappiate che l'intenzione era nobile Con me c'è Ale, ciao Ale Un bel ritorno, quindi una coppia che fa i grandi danni Oggi andiamo a fare la battaglia di Palle di Neve 2v2 4 carte le scelgo io E quelle che non scelgo vanno all'avversario La stessa cosa sarà per Ale Quindi subito, subito, subito Un bel pollicione in su Ale si dovrebbe sentire senza problemi In realtà no ragazzi, mi sono accorto ora Che in realtà Ale in questo momento non si sentiva Ah, molto bene, ben ritrovati ragazzi Esatto, non ti sentivi Ok Quindi, ragion per cui Speriamo che l'audio non dia problemi Perché... No, non credo che dia problemi Sono abbastanza fiducioso Speriamo che non dia problemi Al limite questo video non lo vedrete mai Quindi, giochiamo con un amico Ale ti invito a questo 2v2 No, perché dato che adesso sto sentendo per la prima volta L'audio di gioco nelle cuffie E non è male come idea Però io questa nelle 2v2 a lui non gliela do Ci posso fare niente Ok, tu hai preso l'estrattore Eh, Arco X non lo so L'Arco X è un bel dito Eh, ma preferisco che lo prendi tu Invece che ce l'hanno loro Perché se in 2v2 Se loro si posizionano dietro Con l'Arco X Potemmo far... Potemmo raccontare un sacco di storie Tante Ma proprio sai quante? Un botto Tantissime Io ho fatto dei pick buoni E ripeto, sperando che... Che l'audio sia sincronizzato Perché mi preoccupo di due audio del gioco Sovrapposti Se sono perfettamente sincronizzati Non ci sono problemi È buciaccio di culo Se no... GG E... Ok Ma sai quello là? Devo dirti la vita L'avrei posizionato dietro Te devo dire la sincerissima Sai perché non l'ho fatto? Per il fatto Che magari con una sfera infuocata Ti toglievano tutto Io ho fatto così Eh... La vedo comunque molto molto grigia Senti facciamo così Sì Bravo Ottimo In questo momento ci dovrebbero togliere quel cannone Per andare bene Ok Ce l'hanno tolto Eh La devo dire la verità La vedo proprio... Che dire? Che dire? Non la vedo bene in sta partita Devi partire dietro con l'arco X Sì Con l'estrattore Ora mettere l'estrattore Sì 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 Io pure ho carte Mastino lavico Mastino lavico per noi Eh... Il problema è che tu stai con deck Molto Molto Alto Tantissimo Lancio un gigante goblin Vada facciamo così Faccio un po' di pulizia Così becco pure la La strega Eh vediamo Vediamo se sono stato bravo Dai dai Poteva andare meglio eh Però anche peggio Poteva andare meglio e peggio Io non mi lamento Sì arco X Arco X Tutta la vita vai Quello là sicuramente andrà a romperci un po' le schiatole Ma dobbiamo recuperare l'isir in questo momento Esatto Palla di neve è buttata a caso Proprio Casissimo proprio Ora comincia Non mi sembra che hanno Comincerei col mastino di Sì ma non mi sembra che comunque loro abbiano Eh Sfere infuocate Cose Non mi sembra che ce l'hanno No no Visto solo palle di neve Io onestamente Visto solo Come lo supportiamo quel ragazzotto Eh come lo supportiamo E lo supportiamo così Questo potrebbe essere una buonità Mamma mia loro c'hanno delle carte veramente rotture di palle Cioè loro ce l'hanno grosse eh Butto questa che comunque male Non ci fa Ci sta Recuperiamo un po' di vita Dobbiamo supportare sto attacco mega galattico eh Eh sì C'è la curatrice che ci sta salvando le chiappe Non so se te ne sei accorto Sì no ha fatto tanto 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 Ma quella ci sta salvando Uh mamma mia gli spiriti Guarda la curatrice Di che stiamo parlando Che content Guarda la curatrice È andata è andata la curatrice Vai arco x Arco x Arco x Cannoncino a destra Vabbè raga Lasciamo perde Ho fatto due giocate Incredibili Mamma mia La curatrice va presa per forza in 2v2 Cioè non è che c'è tanto da Non c'è tanto da parlare eh Incredibile Il rocket non l'ho tirato una sola Eh però sai che c'è Se invece Lo davamo a loro Loro ce lo spammavano Sì 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 Che non c'aveva senso Perché noi avevamo Roba molto molto statica Cioè tante strutture E carcola che come minimo L'estrattore ci andava Per vie traverse 100% Assolutamente No no abbiamo fatti I picchi anche giusti Sì io il miner non lo prendo Cioè frega niente Il rocket quasi quasi Mo lo prendo io Se sa mai Senti L'ultimo pic che hai Stregone O bocciatore No stregone Stregone Sì 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 Il bocciatore Sai che c'è però il bocciatore Rompe le palle dopo eh Cioè quello rimane là Carta molto molto lenta No no mi prendo il bocciatore Perché il bocciatore È un tank Pazzesco Cioè almeno per me Ci sta perché hanno Gli scaricuccioli Ci sta ci sta ci sta Ci sta Secondo me è un tank Troppo grande Io ho il gigante Pisse mamma te Non lo so Beh 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 Che dire collettini Io divido così per il momento Sì 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 Di attesa Voglio vedere loro cosa fanno Quel cannone non è male Il cannone a rotelle Veramente non è male È una carta Veramente 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 odiosa eh No quello non mi preoccupo proprio Ci hanno fatto a centrarobba Ma non capisco Sì giusto Perché quello non mi piace Voglio troppo le scave Dai gliela una picconata Ah no Ah è morto È morto Per qualche motivo Per qualche motivo è morto Non lo so Se sarà sentito male Questo l'hanno buttato Ottimo per noi Questo vado a togliere così Aia Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Eh sì sì Sono d'accordo Beh però ce l'abbiamo la roba comunque eh Guarda il mio Brawler Ecco Ce la fai tu? Bravo Vai 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 Dovremmo tener botta Qualche dannetto Sono costretto? Sì costrettissimo Guarda quelle carte là dietro Che ci stanno facendo Ah no No ma oltre quello Cioè il pick è stato perfetto per loro Perché ci hanno un bel deck contro di noi Questa recuperarla non sarà facile Eh lo so Pure l'arciere quello è un dito al culo Lancia la cosa La tua matrice Vai vai ci penso io là Eh culo Ah là l'hanno sprecati dai Va bene Lo proviamo a fa' Sai che ci bloccano il tank Con il pack Provo eh Brutta storia però provo Eh Lì non è un problema niente Prova a sfrittare Perché sì tanto sicuramente Sì sì Diciamo che noi ci abbiamo tanta tanta roba Però Non so che inventarli onestamente Però questa è davvero dura eh Ma non so veramente che E là che fanno Penso che ce la prendiamo nel più Penso Eh penso anch'io Potrebbe essere Oddio Oddio Ale Proteggi tu a sinistra Proteggi tu a sinistra Baby troppo Non ti prego Resisti Ah 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 Stiamo vincendo veramente per il rotto della cuffia Eh cioè Ma questa partita era difficilissima No vabbè raga Eh abbiamo splittato bene le unità Però guarda ti devo dire O stiamo piccando male noi O il gioco ci sta mettendo contro Non ci ha dato dei piccoli onestamente Oh santissimo il signore Santissimo il signore Che roba che pic Allora io L'estrattore non lo prendo Secondo me non va bene in 2v2 Secondo me A me mi sta facendo piccare roba Molto 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 leggera Tantissimo C'è proprio Una roba fuori senso Gli lascio un po' di roba Ok la Tesla è ottima Va bene anche il Gran Cavaliere Per questa modalità Il Gran Cavaliere l'ho preso perché quando ammucchiano roba Io glielo ho preso Sì sì hai fatto un buon pic A farmi la carezzina Questo sicuramente gli rompo le palle Ok Però quella mi deve rimanere in vita Ok Ci sta Bellissimo quello Per il momento Stiamo messi davvero bene Cioè non voglio portare sfiga ma Però adesso siamo organizzati bene al momento Nell'elisir per 2 dobbiamo stare molto attenti Guarda che loro stanno perdendo tantissimo elisir eh Un botto Questo è vero Guarda loro Noi stiamo sopra Te lo dico solamente facendo qualche calcolo Ok Bene Diciamo che va bene per il momento Lo andiamo a perdere però chi se ne frega Bene GG 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 Tanto elisir Io riparto con la fornace dietro perché voglio dare rompimento di scatole sulla torre destra Allora hanno anche golem di elisir Ma quello non ce ne frega proprio niente Te devo dire la verità Facciamo così Ci sta ci sta ci sta ci sta E pensa non ci sono andati neanche sull'estrattore Secondo me hanno sbagliato Butto di spaccamuro a sinistra Così Vediamo che cosa fanno a destra Ok a sinistra entra Uno e due Ok Eh ma non arriva in torre No non arriva Non arriva perché gli facciamo questo Ok La secondo me ottimo Loro stanno indietro di elisir Cioè te lo dico con grande tranquillità Ora nell'elisir per 2 calano Gran cavaliere Con l'elisir ora caleranno tutto Prova a fare un attacco Prova a fare un attacco preventivo Ok Quella me la Me la rovinano così Vediamo Eh bello non è che poi d'altro Ma tu mi dici questa cosa Noi lo facciamo così Facciamo anche così Bravo Ci sta Bello Ha dato un colpo L'arcere magico Bravo 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 Vai 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 Non deve arrivarci addosso quel maledetto Butto pure io Sfera di neve Ok Bello Bello Mamma mia che difesa Tutto al posto giusto Tutto al posto giusto Tutto al posto giusto Allora ricordati che potremmo anche spammare Palle di neve Però secondo me ci arriva quello Quello ci arriva Ci arriva Ci arriva Ci arriva Alla l'ero E io ero pronto alla difesa estrema Io stavo a tirare Tesla Ero pronto Quel gigante royale Non sarebbe mai apparso In hit Qua siamo stati bravi Bravi Sì perché Se al gigante royale Non gli abbiamo fatto fare un hit Vuol dire che siamo stati bravi No no Siamo stati bravi Decisamente moschettiere Che secondo me è fortissimo E se trovi tronco Bravo Neanche te l'ho dovuto dire Gigi 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 Tronco da prendere assolutamente Questo devo prendere per forza Terremoto Palla di neve Pastino la Terremoto Mi prendo la palla di neve Mi prendo Palla di neve Ci sta Ci sta la palla di neve La ciclo meglio Dato che comunque ho preso il golem Sì Secondo me ci sta Chi è che manca Non ho capito E Garnicca Deve fare l'ultimo Pic E atteso alla cassa Garnicca Ok C'è il boia Che è ottimo C'è un mega sguero Che non è male Provo a fare un pic Non c'è restito Quello Sì Sono d'accordo Provo a fare un pic Così Aaaaaa E Che dire Follettini Qua c'è sfera di neve Potevo tirarla sulla cosa Ma ho preferito Rallentare quelli dietro Questo lo devo fare così È andato in it Anche a sinistra Il nostro ragazzo Ah il fantasmone No perché mi è andato a tankare Ma non ho capito io Ma per quale motivo Ma chi è quello Cioè non ho capito Ma perché Ma qualcuno ha raccomandato Ma perché Ha deciso completamente da solo Sì 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 In autonomia Ha detto che ormai È grave Cioè ma non ho capito io Ottimo Si sono divisi Ah che botta Che mi ha dato Un super punch La possiamo comunque gestire Secondo me Parti da dietro Parti da dietro Parti da dietro Parti da dietro Sì sì Volevo vedere un attimino Come si evolveva Drago Drago elettrico Secondo me Drago elettrico Perché guarda Mo colpisce E pulisce tutta la linea Non lo stanno Allora parto così Sì sì Secondo me non giocano più Secondo me non giocano più Hanno perso un botto Madonna mia Tutto insieme Ci sta Ci sta Ci piace Ci piace comunque Bello quel miner Dai 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 Drago Maledetto Ah sì che goduria Drago scelgo te Vai così Unito Vai 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 Perfetto Bravo Molto bene Questa sfera Molto bene Questo diventa invisibile Eh quando diventa invisibile Sochiezi eh Sì 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 È assolutamente utile Allora Noi facciamo così Facciamo così Andiamo di boia Quindi devo fare così Bravo Forse Vabbè ci hanno fatto male Però Mi sta bene Mi sta anche bene Mi sta Devo dire che mi sta anche bene Ok Quella Giù Sì Ma è difficile Che adesso ci fanno torre Va bene Difficile ci fanno torre Ci posso fare quella di sinistra No no Sarà veramente Molto molto difficile Cioè Per entrarci a sinistra Devono arrivare Cioè è impossibile O ci rinano un arazzo O non possono farci niente No 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 Non potevano Cioè un arazzo Un arazzo Una sfera infuocata E una terremoto Cioè non potevano Con le unità che avevano Due miner Cioè mi aspettavo una cosa del genere Ma non Non era fattibile Molto bene ragazzi Comunque vi posso garantire Che in Italia Ma penso anche all'estero Dove cavolo vi pare a voi Partite così fighe E pensate Non ve le porta nessuno Mo fate quello che vi pare Io non sono convinto Io non sono convinto Perché non è che noi facciamo In particolar modo io Su Clash Royale Intrattenimento Come andava una volta No che io poi Tra l'altro Non l'ho mai fatto Solo cacciara E Non si capiva niente Qua Sono partitelle Niente male Sperando che vedete il video Perché potrebbe essere Che l'audio sia doppio Non lo so Questa è pure una prova importante Però eventualmente Non dovrebbe dar fastidio Non dovrebbe Speriamo Incrociamo le dita Senti parto da sinistra Io dietro Ok Ti sto body blocchiando I cosini Cosa vado così Perché io Rimango con l'isiera in mano Vabbè Ma mamma In realtà Guardate devo dire Vabbè Questo te lo butto così Non mi preoccuperei proprio Del loro attacco A sinistra Quella è bella Quella mi piace Quella mi piace Sì se magari spara Sarebbe pure bello Ma deve comunque sparare Va benissimo Guarda che è andato Torre pure a destra Eh Molto molto bene Eh vabbè Quella è andata Ciao torre Così Quella torre No no Sono stati intelligenti Perché non si sono fatti Queste carte Hanno un'intelligenza propria Oggi Cioè Guarda la valchiria La valchiria Ah E questo scassa No no Ce l'hai C'hai il barile Togli Togli tutto Io invece andrei così Più del barile Farei così Così mi tolgo quelli E mi dovrebbero fare anche questi Vabbè No problem No problem No problem Quello ti dà anche Elisir E poi non so chi lo uccide Dipende Ok va bene Va benissimo Stanno veramente messi male Me l'ha dato tutto a me L'elisir tra l'altro Non so perché Molto bene No e vabbè Ma è giusto Mancherebbe altro Vabbè Ma in realtà Guarda che va bene Perché sono quello più pesante Dei due Eh quindi Mi va assolutamente Benone Quindi Voi fate così E io Mi metto in mezzo a voi Così In mezzo a voi Occhio a sinistra Che c'hanno carte Cattivelle Però Valkyria dovrebbe far danno No Va bene quello Lo blocco così Ok Bravissimo Io Vado così Sì togli 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 tutto Io parto con questo Cioè quelli sono danni Che gli arriveranno Un faccia breve Mamma mia Che roba Così Mamma mia Che roba A sinistra Pure io Sono avanzato Tacche punta Stiamo giocando Tacche punta Ragazzi Tacche punta Tacche punta Questi qua È inutile Che tirano pure Cioè Guarda Ho tirato quello Giusto così Perché va Andate a mangiare I popocorno Dai Mamma mia Ancora siete in tempo Questa ragazzi Di fino Se fanno un torneo 2v2 Io e te ci dovremmo Partecipare Dobbiamo vedere Su Wesley Se fanno qualche cosa Non dobbiamo Neanche parlare Ragazzi Tanto per farvi No Parliamo pochissimo In realtà Ma pure si picche Io e te Non si dimo niente Cioè In un torneo Dovremmo farlo Però Diciamo che ragazzi Un po' di anni Alle spalle Li abbiamo Io non Allora loro stanno Prendendo Un botto di roba aerea Cioè tu gli stai lasciando Mamma mia Dammi delle frecce Dammi qualcosa Mi prendo la tornato Per assurdo Scusa Ale Ma Lo devo fare per forza Sono Sono obbligato A prendermi la tornato Cioè E sai che c'è Dato che mi prendo la tornato Io do pure gli scheletrini E pure io C'ho molto Molta roba squishy Che poi lo sai Che questa qua È la partita Dove ipoteticamente Dovremmo perdere Cioè Conoscendo le Le tematiche No Mamma mia Mamma mia Che ho visto Che ho visto Che ho visto Mi sono venuti i brividi I brividi Mi sono venuti i brividi Cioè Neanche dovremmo giocare più Sta partita Cioè Ci dovremmo ribellare Cioè Datecene un'altra Io no Questo è come il pacchetto De viva Non va bene Questo Cioè Mi aspettavo un finale Diverso Ve devo dire la verità Cioè non è che abbiamo vinto Ragazzi No raga Ma non si può Non mi possono mettere Sti player contro Eh No hanno fatto una cosa Che veramente Abbiamo Rabbrividito Ti faccio fare Molto questi danni Ora dai Niente Niente No vabbè Ma non Non sa senso Veramente No ma non Tirare una fulmine lì No No È veramente No ma Poi che truppe c'erano Niente Ne hanno preso una truppa Sì Mi sembra un goblin Te devo dire la verità Molto bene Molto bene Molto bene Qua Vinto Vinto Cioè È proprio K.O. Tecnico Cioè Non è che Te puoi inventare niente Da moda Avrebbero dovuto Smettere Ma no no Dopo quella giocata Di quello Cioè io ho detto Sai questa è quella Che ci fanno perdere Ma poi si arrivano I player così Cioè Non possiamo anche Non tirare più niente Cioè È finita Non è che Cioè basta Raga l'ultima partita Scusateci Veramente è stata Indecorosa L'ultima partita Diamo scusa Ma non dipende Non Cioè magari È dipeso da noi Ma dopo quei sei Buttati così Da Briviti Da Briviti Andiamoci a vedere qua Eh qualcosetta Poco e niente Gigante elettrico La carta che mi mancava E raga E diciamo che È stata Facile Indolore Facile indolore Zero sconfitte Let's go Tanto io sto prendo La cassa Quella là Tutta birbantina Io praticamente Le carte Ce l'ho Praticamente tutte Tranne le ultime Ovviamente Cioè Le spiritelli elettrici Che poi vado a donare Sempre nel clan Quindi non è che posso Accumularne tanti Eh signori Io che devo dire Ale Grazie mille per la compagnia Grazie a te Bella ragazzi Ci vediamo al prossimo Appuntamento Spero che vi sia piaciuto Lasciate like Level up Amazon Tutto in descrizione Guardatevi gli altri due video Che sono apparsi Uno sotto di me Uno a fianco a me Vi vogliamo bene Ciao ragazzi Buona giornata Arrivederci State buoni Aspetta che c'ho l'hard disk Che quando fa così Mi fa venire i brividi Perché si blocca Capito Stup